Eros Soccal, ex pasticcere e grande amante delle moto, è morto a 76 anni dopo una breve malattia. Conosciuto per la sua pasticceria Aurora nel centro di Possagno, famosa per la meringa con la panna, Soccal era anche fondatore del motoclub Ducati Pompone. Il suo funerale si svolgerà alle 6 del mattino, come da lui richiesto, affinché partecipino solo coloro che gli volevano bene. La famiglia Soccal onorerà le sue volontà con una cerimonia al Tempio Canoviano di Possagno. Eros lascia la moglie Marisa, il figlio Hermes, la nuora Giada, i nipoti Edoardo e Camilla, la sorella Aurora e il cognato Agostino. Grande la curiosità a Possagno per quanti effettivamente parteciperanno al rito funebre. In molti ricordano Soccal per la sua grande professionalità come pasticcere e anche come amico, come il professor Giancarlo Cunial che lo ha ricordato con affetto, menzionando le tante giornate cominciate all'alba e le numerose esperienze condivise dalle fornaci ai viaggi in moto.